Buongiorno a tutti, ogni promessa almeno per quanto mi riguarda è un debito e nonostante tra poche ore inizieranno i festeggiamenti per il nuovo anno, sono qui per onorare quanto vi avevo detto, ovvero pubblicare in questo video un mio Outlook sul 2023. Devo farvi però una doverosa premessa, da fruitore di YouTube ho visto che molti canali a tema finanziario si sono occupati per fare delle previsioni per il prossimo anno su quanto è accaduto nel passato, sia recente che molto più remoto, analisi del tipo gli indici USA non scendevano così tanto dal 2008, il mercato azionario americano è molto difficile che scenda due anni di fila, è capitato solo X volte nella storia. Personalmente ritengo questi dati sì interessanti ma molto sterili, perché se fosse sufficiente guardare a quello che è accaduto nella storia e applicarlo fedelmente pensando che accada nuovamente saremmo tutti milionari e non ci occuperemo più di finanza, io non avrei neanche aperto un canale YouTube, però per cui credo che bisogna essere assolutamente più pragmatici e in questo senso vi condivido subito subito lo schermo e quello che desidero fare io in questo video è partire sì da quanto è accaduto nel 2022, ma per avere degli spunti operativi per il 2023, non facendomi condizionare però dalla statistica, perché se la statistica fosse sempre affidabile, ripeto, non saremmo qui. Partiamo dal Dow Jones, vedete che continua a essere in questo box di congestione da ormai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sedute. Che cos'è che dobbiamo notare subito? Che a differenza di Standard & Poor's e Nasdaq si sta mantenendo sopra la media mobile a 200, 32.450 e se vediamo il rendimento dell'anno 2022 sia pur negativo è solo un meno 8,78%. Se ci trasferiamo allo Standard & Poor's 500 vediamo che il quadro tecnico di breve sostanzialmente non cambia, c'è sempre questo box di congestione, ma vedete che tutte le medie mobili più importanti, io uso medie mobili semplici, la 200, 4.000, 0, 0, 8, la 100, 3.902, la 50, 3.898, sono sopra i prezzi che attualmente sta battendo lo Standard & Poor's 500 perché la chiusura è stata 3.839 e la performance a un anno è stata meno 19,44%. Peggio ancora ha fatto il Nasdaq che è sì in laterale sui minimi e per fortuna non li ha persi, però ha anch'esso tutte le medie sopra i prezzi attuali, media mobile a 200, 11.787, media mobile a 100, 11.255, media mobile a 50, 10.910, ha chiuso ieri a 10.466, ma quello che preoccupa ovviamente di più è l'andamento del 2022, meno 33.1. Se invece ci trasferiamo agli indici europei principali, il DAX, abbiamo su base annua un rendimento negativo del 12.35, anche qui abbiamo un trading range che dura dal 16 dicembre, per cui in realtà le configurazioni tecniche sono piuttosto simili. Quello che differenzia i vari indici è che, come vi ho già detto, il Dow Jones si è mosso come i principali indici europei e hanno sottoperformato Standard & Poor's e Nasdaq e adesso cercheremo anche di capire perché. Se ci spostiamo sul CAC, vediamo che il CAC ha perso solo il 9,50% nel 2022, anche qui abbiamo un trading range, lo vedete di breve periodo e non c'è ancora una vera direzionalità e poi passiamo all'Eurostox che vediamo subito su base annua qual è stato il rendimento, meno 11.74, quindi leggermente peggio del CAC, ma anche qui siamo in una sorta di box di congestione, vedete, da diverse sedute e anche il nostro FTSE BIM Futures che su base annua ha avuto un rendimento di meno 12.85, continua a trovarsi in questo box di congestione. Prima di passare alle considerazioni che hanno portato a questo andamento di mercato, visto che non abbiamo quasi mai il tempo di farlo, vediamo altri market mover molto importanti come si sono comportati. Il decennale americano ha toccato un picco a ottobre, il 21 di ottobre, quando è arrivato a un rendimento del 4,333, adesso siamo al 3,87, però vedete che comunque se guardiamo a marzo, a inizio marzo, era ancora attorno all'1,80, quindi il rally è stato molto molto importante. Poi voglio farvi vedere anche, qui vi metto il Brent, ma cambia abbastanza poco, perché questo software non ha il feature sul VTI, io non trado il petrolio, ma mi serve ovviamente per decidere comunque gli investimenti magari quando ho i trading, quando devo fare Eni, Tenaris, Saras, guardo più ovviamente i margini di raffinazione, è quello che notiamo che dai massimi della metà di giugno, addirittura a 123.68, abbiamo fatto dei minimi a metà dicembre in area 70, quindi il trend comunque, anche se adesso sta recuperando, è ancora un trend piuttosto ribassista. Impressionante l'andamento del gas perché è arrivato a 10 nella seconda metà di agosto e adesso siamo addirittura sotto 4,50 e vedete che praticamente tutto il rialzo che era partito sostanzialmente dalla metà di marzo si è esaurito. Poi abbiamo un bel trend rialzista per il gold, di breve magari è un lateral rialzista però dai minimi sicuramente c'è stato un rimbalzo di oltre 200 dollari perché era arrivato sotto 1.620 dollari, adesso siamo a 1.830 e anche l'argento ha un trend piuttosto forte per cui c'è una riscoperta di oro e argento. Quello che noi dobbiamo però vedere, per esempio, per quanto ci riguarda, ovvero il mercato italiano, che midcap e star sono stati molto più deboli del fuzzimib, per cui se prendiamo un grafico giornaliero, adesso abbiamo un trading range, se però vediamo l'anno il midcap ha perso il 21%, lo star ha perso il 28,34%. C'è stato solo un miglioramento reale nell'ultimo mese perché lo star nell'ultimo mese ha fatto meno 1,53, midcap ha fatto meno 1,59 e il futures sul fuzzimib ha fatto meno 4,67. Che cos'è che dobbiamo cercare di capire per prevedere quanto accadrà nel 2023? Innanzitutto ho qui, io lo compro, vedete Milano finanza, perché l'ho voluto comprare quasi tutti i sabati quando riesco lo faccio ancora? Perché ci sono le tabelle riassuntive di quanto accaduto nel 2022 e io, adesso magari voi non lo vedete, ho cerchiato quelli in giallo con l'evidenziatore, sono stati a mio avviso gli eventi più importanti. Sicuramente ne avrò tralasciato qualche d'uno, però ce ne sono alcuni assolutamente significativi che voglio condividere con voi. Il 19 di gennaio, dopo tre anni, il rendimento del boom tedesco decennale è tornato positivo attestandosi allo 0,012, quello del BTP di pari durata e più che raddoppiato in 12 mesi all'1,35. Il T-Bone USA rende l'1,89. Qua eravamo al 19 di gennaio. Poi il 24 di febbraio, è inevitabile, Vladimir Putin ha dato il via all'operazione speciale contro Chievi, il presidente russo ha dichiarato l'inizio delle operazioni militari nel Donbass, affermando che Mosca cercherà la smiditalizzazione e denazificazione dell'Ucraina. In rosso i mercati, meno 4 il FTSE, meno 2 il Nikkei, meno 3 il Nasdaq. Petrolio sopra i 100 dollari al barile. Marzo il 16, Fed al via la stretta monetaria della Federal Reserve, preseduta da Jerome Powell. La banca centrale USA ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso obiettivo allo 0,25-0,50 nel tentativo di porre una frenata all'inflazione salita a febbraio al 7,9%, ai massimi da 40 anni, e il primo rialzo dal 2018. 2 maggio, il Treasury decennale americano sopra la soglia del 3%. Il BTP italiano è salito ai massimi dal 2019 e 2,85. Pesano la stretta monetaria della Fed e i dati macroeconomici incerti. Poi, ovviamente, ci sono altri dati significativi. Io ho cerchiato nei miei appunti il 21 di luglio. La BCE, per la prima volta dall'aprile 2011, ha alzato tutti i tassi di interesse di 50 punti base per contenere l'inflazione galoppante. L'Istituto ha anche approvato lo strumento antifragmentazione. Cosa ho cercato di farvi capire? Che è normale che quando si passa da tassi addirittura negativi per il Bund a tassi positivi e il BTP decennale adesso sta stabilmente sopra il 4%, è facile che esca denaro dal mercato azionario. Logicamente, quando c'è una situazione come quella che si è verificata nel 2022, dove il mercato obbligazionario scende e il mercato azionario scende, ovviamente ci sono dei problemi proprio di asset allocation. E un anno analogo, secondo me, è stato appunto il 2018, come ricordo spesso. Per fare delle previsioni sul 2023, di cosa dobbiamo tenere conto? Innanzitutto, io direi che questa salita dal 13 di ottobre, siamo andati a fare un minimo sul futures a 20,080, fino praticamente ai 24,09, ci poteva stare a livello di rimbalzo tecnico, ma sinceramente avrei visto molto difficile un obiettivo superiore a quello di metà agosto. Quindi abbiamo 23,170, 23,190. Questa parte finale del movimento di recupero è, secondo me, un tentativo anticipato di wind of blessing, per cui, secondo me, rispetto alle condizioni macroeconomiche e geopolitiche, l'ultima fase di rialzo dei mercati azionari, quindi partita per noi dal 7 di novembre in avanti, è un eccesso che andrà corretto. Questo perché, comunque, non ci sono ancora oggi le condizioni per cui possa partire un mercato a rialzo. Però ci sono tanti errori che vengono compiuti. Il più clamoroso è parlare di questo come di un Burr Market Rally, perché alla fine, mentre Standard & Poor's e Nasdaq sono stati sempre, lo Standard & Poor's è uscito di recente in un Burr Market, Dow Jones, principali mercati europei, quindi DAX, CAC e Eurostoxx 50 e anche il nostro Futsimib, è da mesi o da diverse settimane che non sono più in un Burr Market. Ricordiamoci che il Burr Market si verifica quando c'è una correzione di almeno il 20% dagli ultimi massimi relativi. Per il Dow Jones e per gli indici americani bisogna parlare ovviamente di massimi storici. Per cui io mi sono fatto questa idea, che secondo me il mercato deve correggere, però quando è che ci sarà o dovrebbe esserci, perché purtroppo non ho la sfera di cristallo questa correzione, nel primo e secondo trimestre. Quali sono le incognite più grandi per fare una valutazione di questo tipo? A mio avviso sempre l'inflazione e abbiamo visto come per esempio il prezzo del petrolio si è calato enormemente dai massimi, si è calato enormemente se non crollato il prezzo del gas, c'è comunque la possibilità che nel prossimo trimestre, ve l'ho letto ieri mattina, ci sia finalmente un calo per il costo della bolletta elettrica per le famiglie italiane che sono nel regime regolamentato, però quello che ci interessa è capire come muoverci a livello di nostri investimenti. Io voglio essere estremamente chiaro con voi, al momento potrebbe esserci ancora una fase di mercato comunque laterale sui massimi di periodo o una correzione non ancora evidente, però io, come vi ho già detto, mi porterò avanti per cui aumenterò la liquidità del mio portafoglio di medio-lungo periodo. La prima cosa che farò. La seconda cosa che farò è cercare di non essere come è il Warren Buffett della situazione, ovvero ogni momento è buono per acquistare, perché per noi comuni mortali il timing, come vi ho già detto in altri video, è fondamentale, perché il petrolio a maggio 2020 era andato in negativo solo pochi mesi fa era 120 dollari. Quindi capite bene che in due anni ha avuto un'escursione pazzesca. È vero che parliamo di una materia prima e non è un asset finanziario poco volatile, però l'importante è che dobbiamo avere la mentalità aperta. È ovvio che se le banche centrali dovessero terminare anticipatamente il rialzo dei tassi e dovessero anche solo ventilare l'ipotesi che ci sarà magari entro la fine del 2023 un inizio di riduzione dei tassi, torneranno molto probabilmente attuali le utilities, perché le utilities sono gravate da un debito veramente molto alto, per cui se, siccome il mercato anticipa di uno se non due trimestri, se nella fine, alla fine maggio-giugno del primo semestre dovesse percepirsi questa ipotesi, oggettivamente nel secondo semestre ci potrebbe essere un buon recupero delle utilities e magari una sorta di consolidamento o correzione delle banche. Oppure vi faccio un esempio al quale non credo e che ovviamente mi auguro, però purtroppo c'è un'ipotesi che non so quantificare in percentuale di esplosione di Covid se dovessimo purtroppo avere questa mancanza nei controlli dei voli dalla Cina e in Europa non c'è unità come al solito e facciamo l'extrema razio lockdown. Ecco, lockdown, un'azienda che io non faccio, dico la verità, in questo momento non sto facendo Alfonsino, è sui minimi storici, fa quello che fa Glovo, che fa Just Eat, e logicamente questo è un titolo che oggi vale 0,50, scoppia un lockdown che vada anche a fare il 100% in poche settimane possibile. Chiudono alberchi, bar e ristoranti, è ovvio che un titolo come Mar, che oggi è in laterale molto stretto, purtroppo può accelerare a ribasso. Vengono fatti di nuovo migliaia di tamponi ogni giorno di Asorin che offre anche questo servizio, è facile, vedete quanto era arrivata, vediamo quando, mettiamolo con un settimanale, così si vede un po' meglio, vedete nell'anno purtroppo orribilis del Covid, è arrivata ben oltre 200, quindi secondo me bisogna non avere quella mentalità per il 2023 ancora per le prime settimane, i primi mesi di buy and hold, ma essere anche per chi non fa trading molto aperti anche a cambiare idea, miracolosamente a febbraio-marzo c'è uno spiraglio di pace o quantomeno di inizio di trattative tra Russia e Ucraina con la Nato a fare da garante, è facile che il mercato farà un rally del 10% in poche sedute e lì chi è bravo deve secondo me incrementare la propria quota azionaria oppure cominciano a uscire dei dati sull'inflazione in costante riduzione è normale che le banche centrali debbano rallentare l'entità degli importi dell'aumento dei tassi, però il mantra secondo me per il 2023 deve essere non costruire posizioni di medio lungo periodo perché ogni momento è buono ma un'attenzione incredibile al timing è fondamentale sarà fondamentale entrare nel momento più opportuno non sarà facile trovare questo momento però ripeto se l'inflazione inizia a scendere se le banche centrali cominciano a rallentare o magari dicono per il momento ci fermiamo è tutto è come dire musica per le orecchie dei mercati finanziari se il treasury decennale americano torna sotto il 3% è ovvio che c'è l'opposto del fly to quality il fly to quality è passare dal mercato azionario al mercato obbligazionario invece in questo caso succederebbe l'esatto contrario si vende il mercato obbligazionario e si incrementano le quote del mercato azionario tutto secondo me sta a capire se è finita un'epoca e per il breve periodo temo di sì quella dei tassi a zero per cui c'è un nuovo come lo chiamano gli americani new normal per cui non ci saranno più non ci sarà più la possibilità di finanziarsi con tassi bassissimi di conseguenza le aziende dovranno procedere a una forte riduzione del loro debito non tutte ci riusciranno perché ovviamente se i tassi di interesse rimarranno alti per un periodo medio-lungo ovviamente tutte le aziende più indebitate soffriranno per cui secondo me più che pensare a un investimento settoriale per cui vi ho detto seconda metà dell'anno utilities se le banche centrali rallentano e magari invece riduciamo o addirittura usciamo dalle banche io sarei sempre dell'idea di puntare a uno stock picking cosa intendo dire che se devo e l'ho già fatto questo esempio al di là che in questo momento e vediamolo Brunello Cucinelli è molto vicino ai massimi storici anche se qua per me sta distribuendo e il titolo è destinato a iniziare una correzione multipli alla mano io devo puntare più su Moncler rispetto a Brunello Cucinelli addirittura per gli investitori più evoluti che riescono a fare uno spread trading a costo di fare una brutta figura sapete io ci metto sempre la faccia andrei long di Moncler e short di Brunello Cucinelli questo si chiama spread trading poi magari vi farò anche un video specifico anche se è un argomento un po' più diciamo per un investitore evoluto anche perché poi bisogna sempre avere la possibilità di fare un'operazione short essere abilitati accendere un prestito titoli comunque per farvi capire sarà fondamentale all'interno di un settore scegliere le società che sovraperformeranno Enel secondo me per darvi un'idea oggi ha rimbalzato molto perché dai minimi era andata sotto 4 semplicemente perché ha una capitalizzazione di mercato attorno ai 40 miliardi per cui si dice che fa paniere il mercato ha recuperato molto dalla metà di luglio ovviamente Enel non può rimanere comunque al palo farei attenzione per esempio a Eni e Tenaris perché comunque secondo me al momento non hanno ancora scontato una riduzione del prezzo del petrolio come è avvenuta perché comunque passare da 120 a 80 Eni è passata da 14 65 a un minimo di 12 80 a rotondo anche Tenaris stessa vedete che comunque è ancora sui massimi e non ha ancora accennato ad una vera e propria correzione per cui banalmente se il prezzo del futures sul petrolio continuerà a soffrire non credo che il 2023 possa essere un anno così favorevole per Eni e Tenaris diverso il discorso di Saras perché è un raffinatore e ovviamente qui bisognerà tenere sempre sotto osservazione quando verranno pubblicati i margini cosiddetti EMC quindi quanti dollari per barile ottiene Saras e ovviamente fare un confronto con la media storica sicuramente il 2023 sarà un anno comunque complicato le variabili sono ancora molte ricordiamoci che partiamo sempre da un errore di fondo da parte delle banche centrali che hanno sottovalutato l'inflazione e sono partite in ritardo con e userei l'aggettivo colpevolmente in ritardo perché ovviamente se Fed diciamo che ha un po' meno colpe la BCE ne ha davvero tante e poi dobbiamo imparare a vedere il mercato a 360 gradi per esempio quando tutti parlano continuamente dello spread BTP Bund è importante fino a un certo punto perché è ovvio che se anche il Bund inizia a avere rendimenti interessanti di conseguenza lo spread non è così ampio si mantiene sempre in area 200 210 220 però noi siamo arrivati a pagare un tasso di interesse superiore al 4% quindi io credo che si possa riuscire a ottenere dei risultati positivi nel prossimo anno soltanto se se si sarà molto attenti ai momenti di alle finestre temporali è il caso di dire in cui ci saranno magari dei rally di breve periodo seguiti a correzioni perché perché possa diciamo esserci in piccolo in piccolo bisogna dirlo un mini 2021 devono mettersi a posto troppe situazioni macroeconomiche e geopolitiche per cui attenzione che se la mia previsione di un brutto primo semestre dovesse rivelarsi sbagliata comunque il mercato a certi livelli già sopra area 24.000 per quanto ci riguarda non parliamo di area 25.000 saremmo probabilmente nuovamente in una bolla quindi comprare in quelle aree di prezzo sarà molto difficile non tanto perché non possiamo farlo perché andiamo incontro ci esponiamo a rischi davvero significativi in ogni caso io come vi ho promesso cercherò di esservi ancora di supporto noi ci sentiamo ovviamente lunedì prima dell'apertura del mercato diurno e faremo poi un'intervista troverete sul canale un'intervista molto interessante perché vi ho promesso un'intervista al mese con un esperto che si occupa di finanza o di temi legati alla finanza poi riprenderemo con i nostri webinar e cercherò ovviamente di esservi sempre di supporto ovviamente siamo a San Silvestro voglio augurarvi un 2023 mi auguro migliore di questo 2022 che comunque è stato un anno difficile perché alla fine la guerra ha comunque segnato tutti noi se non direttamente almeno indirettamente e al di là che questo canale spero possa aiutarvi a gestire meglio i vostri risparmi però mi auguro che ci sia nel 2023 un cessato il fuoco e comunque anche per quanto riguarda i mercati finanziari senza ripeto pretendere un nuovo 2021 che si possa finalmente avere un po' più di tranquillità in modo anche da poter allocare nella maniera migliore il proprio capitale per le persone che non desiderano o non hanno il tempo materiale di fare trading e ovviamente hanno orizzonti temporali di medio lungo periodo auguri di buon anno ancora a tutti e vi aspetto come al solito lunedì prima del mercato diurno prima che apra il mercato diurno e vi aspetto di un po' più di un po' più di un po' più Grazie a tutti